Allora, intanto buongiorno a tutti quanti. Questa è un'occasione che ci sarebbe piaciuto, come forse immaginate, poter fare in presenza perché era per noi un'opportunità per riuscire a dare seguito a quello che in molte reti ci chiedono nei nostri incontri consulenziali, cioè di poter scambiarsi tra reti, esperienze, letture, analisi, ma anche criticità e opportunità di gestione di queste criticità. Siamo un po' così costretti all'interno di questo strumento che invece poco agevola il portare fino in fondo questa opportunità laboratoriale, vorrei però sottolineare che i partecipanti a questo laboratorio abbiamo visto le iscrizioni e rappresentano sicuramente un gruppo molto ricco e molto eterogeneo di competenze, di ambiti, di professionalità, sia della pubblica amministrazione che del terzo settore. E quindi ci piacerebbe moltissimo di poter raccogliere costantemente il vostro contributo e di continuare a prenderla come un'occasione di scambio per quanto più complessa di quello che sarebbe stato in presenza. Come potete vedere dalla slide, questo laboratorio ha come suo focus i cicli di coprogrammazione e coprogettazione del welfare di comunità tra le reti locali, quindi molte parole molto ricche e pregnanti, in particolare questo nostro primo momento va ad affondare l'attenzione rispetto agli strumenti di metodo e di governance per la gestione di questi macro processi. Quindi andremo ad offrire innanzitutto alcuni elementi di quella che è la cornice di riferimento normativa in cui si vanno ad inserire questi processi di coprogrammazione e coprogettazione, ma solamente come riferimento generale che poi ci aiuta invece a ragionare su quale cultura di fondo, quale metodologia di gestione ci consente di rendere attuativa quella cornice normativa. C'è stato prima di questo, forse Nicola ha detto, mi scuso se ripeto cose già dette, un laboratorio che ha affrontato specificatamente il tema della cornice normativa, c'è un ebook molto interessante, anche molto preciso, molto approfondito, per cui ecco vi proporrei su aspetti legati alla normativa di non porre oggi l'attenzione, ma di utilizzare questa fonte di conoscenza ormai a disposizione di tutti quanti, perché su strategie amministrative la potete trovare, compresi video dei docenti che sono intervenuti. Quindi ecco, proviamo ad offrire la cornice, per quanto la nostra parola d'ordine, riprendendo quello che una dirigente di servizi sociali di un comune grosso della provincia di Milano diceva, è meglio un appalto fatto bene che una coprogettazione fatta male, a richiamare proprio l'importanza di padroneggiare la cornice normativa e soprattutto di padroneggiare un metodo di lavoro, un modo di lavorare. Quindi, qual è la nostra cornice? Si parla di lavoro di rete, anche la legge regionale, insomma, parla di governo delle reti, quello su cui però questo lavoro di rete va ad insistere come principi fondamentali è il principio di sussidiarietà, che ha una storia lunga di sviluppo negli ultimi decenni. Nel Tuel, nel testo unico degli enti locali, si riporta che i comuni e le province svolgono le loro funzioni, come leggete, attraverso attività adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. C'è la 328, la legge quadro, che dice che alla gestione e all'offerta dei servizi evidenzia che provvedono i soggetti pubblici, ma evidenzia anche come soggetti attivi nella progettazione e realizzazione degli interventi una serie di organismi che sono ora compresi, dopo la riforma del terzo settore, nei cosiddetti enti del terzo settore ETS. E il sistema integrato di interventi e servizi, dice la legge 328, ha anche tra i suoi scopi la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone e della solidarietà organizzata. C'è la riforma del titolo quinto della Costituzione, all'articolo 118, che recita che lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli associati per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà. Quindi tutto questo ha poi portato per poter dare solidità a questa interazione, cornice a questa interazione tra la pubblica amministrazione e gli altri soggetti che si occupano, che sono aggregazioni di cittadini, che si occupano di solidarietà organizzata, come dicono le norme, e in applicazione del principio di sussidiarietà è nato nel 2017 giuridicamente il terzo settore. Riprendiamo l'articolo 2, che dice che è riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato, della cultura e della pratica del dono, quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone spontaneità e autonomia e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le regioni, le province autonome e gli antirocali. Il terzo settore quindi già emerge da questo articolo che non ha come suo riferimento unico ed elettivo la pubblica amministrazione, ma la sua collaborazione con Stato, regioni, province autonome ed enti locali favorisce l'apporto che il terzo settore può offrire al perseguimento delle finalità di pubblico interesse e di interesse generale. Su questa cornice, su questo fondamento, richiamiamo anche l'articolo 55, che a questo proposito mette tutti i soggetti pubblici nella condizione, nessun escluso di questi soggetti pubblici, nella condizione di assicurare, nel rispetto delle norme che disciplinano i procedimenti e in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona, il coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore, nella programmazione, nella progettazione e nell'organizzazione degli interventi e dei servizi. Nei settori di interesse generale, definiti dall'articolo 5 del codice, che sono 27 settori. Quindi non stiamo più solo parlando di sociale, di socio-sanitario, che erano più tradizionalmente gli ambiti di collaborazione tra la pubblica amministrazione e il terzo settore, ma parliamo anche di cultura, di ambiente, di tutelare l'ambiente, di sport, di turismo, di agricoltura sociale, di formazione, quindi di moltissimi ambiti nuovi che aprono, come vedremo, alla partecipazione anche di nuovi soggetti all'interno di queste reti per la costruzione del welfare. Ecco, il coinvolgimento attivo, dice il codice, per arrivare al tema che ci vede assieme oggi, il coinvolgimento attivo si realizza attraverso degli strumenti elettivi. Il codice dice la coprogrammazione, finalizzata quindi all'individuazione da parte della pubblica amministrazione procedente, quindi non decade assolutamente la titolarità della pubblica amministrazione a gestire questo processo, a governare questo processo, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tra fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili. Quindi la coprogrammazione richiama a quel processo di definizione, diciamo, delle politiche territoriali sulla base di una lettura dei bisogni e quindi anche di una scelta di allocazione delle risorse e delle strategie macro per poter soddisfare questi bisogni. La coprogettazione, dice il codice, è finalizzata invece alla definizione e eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento, finalizzati a soddisfare bisogni definiti alla luce degli strumenti di programmazione, quindi alla luce del processo precedente. Per cui quello che offre il codice, quello che offre nel senso di sistematizzazione di processi che sui territori erano già, in molti territori già attivati, è quello della circolarità tra la coprogrammazione territoriale e poi la coprogettazione tra specifici soggetti delle risposte in termini di servizi ed interventi in relazione a quello che il processo di coprogrammazione ha messo in luce. Quindi laddove si definisce un ruolo del terzo settore come soggetto che direttamente risponde a principi costituzionali, rende fattiva l'applicazione di principi costituzionali e di principi della legge quadro e così via, per molto tempo questa possibilità di poter esercitare a tutti gli effetti questo ruolo di co-costruzione del welfare è stata, come forse saprete o sicuramente saprete, è stata per certi versi considerata lesiva del diritto alla concorrenza del libero mercato, in quanto sembrava che anche per l'ANAC e per alcune sentenze che le possibilità offerte al terzo settore fossero in qualche modo creassero un privilegio del terzo settore rispetto al resto del mercato. è stato un tema che per molto tempo ha rischiato fortemente di impoverire fino a spegnere la forza propulsiva di questo nuovo modo di collaborare tra pubblica amministrazione e terzo settore, fino a che in quest'estate la sentenza della Corte Costituzionale ha finalmente, si dice, si è detto anche nel laboratorio precedente, messo le cose a posto, cioè ha conferito al terzo settore il ruolo e ha stabilito che il ruolo del terzo settore fosse quello che poggia proprio sui principi costituzionali di collaborazione a promuovere la sussidiarietà orizzontale, a promuovere i principi della Costituzione. E quindi la Corte Costituzionale dice che l'articolo 55, quello che abbiamo appena letto, del Codice del Terzo Settore rappresenta una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale. In forza dell'articolo 55, dice la Corte Costituzionale, si instaura per soggetti pubblici e gli enti del terzo settore un canale di amministrazione condivisa alternativo a quello del profitto e del mercato. Quindi non è configurata una lesione del diritto alla libera concorrenza o delle opportunità del libero mercato. È un altro piano, quello su cui poggia la collaborazione tra pubblica amministrazione e terzo settore ed è il piano dell'interesse pubblico per ciò che concerne la pubblica amministrazione e dell'interesse generale della comunità per quello che concerne il terzo settore. Questa condivisione e sovrapposizione per certi versi di interessi è, secondo la Corte Costituzionale, la garanzia di attuazione del quarto comma dell'articolo 118 della Costituzione. Questa è la cornice. È una cornice che ha delle implicazioni, è una cornice in cui possiamo andare ad evidenziare come ci siano alcune particelle guida della collaborazione fra questi soggetti, questi protagonisti del welfare, ovvero la particella CO e la particella PRO, che ci aiutano a iniziare a definire, a introdurre elementi di definizione metodologica. Il CO ci dice del lavoro di squadra, ci dice del processo di condivisione attivato tra più snodi. il PRO ci dice della direzione, quindi dell'obiettivo comune che è indispensabile avere e darsi come condizione per poter programmare e progettare. Ecco quindi che quello che la cornice normativa ci mette a disposizione è sostanzialmente il fondare su un riferimento terzo quello che ormai era un'esigenza molto forte della comunità e dei sistemi di welfare, ovvero l'esigenza proprio di uno scarto di paradigma. Per l'ente pubblico, forse siamo un po' avanti Chiara rispetto alle slide. Perdonate, è partita una condivisione ma su uno scambio, cioè senza più la possibilità di governare, quindi sto cercando di risolvere... Guarda Chiara, ho salvato un pdf sul suggerimento della dottor Simonetta, quindi ecco, è meglio che... Sì, scopri la condivisione del pdf. Esattamente, sì, perché altrimenti... Certo, certo. ...è faticoso per i partecipanti seguire. Ecco, provo a procedere, poi lo vedrete insomma quando Chiara riesce a reinserire. Innanzitutto per l'ente pubblico uno scarto, uno scarto dal dovere di coinvolgimento del privato nell'erogazione dei servizi ha un dovere di coinvolgimento dell'intera filiera di lettura dei bisogni della comunità, della progettazione di risposte, della realizzazione degli interventi. Quindi si chiede all'ente pubblico di assumere un ruolo di promozione della sussidiarietà, un ruolo promozionale all'interno del sistema di welfare. Ce l'abbiamo fatta? Sì? Sì, sì, arrivano. Ok. Per gli enti del terzo settore, la richiesta di scarto proprio di visione è da organizzatori di interventi prestazionali, da competitor tra soggetti a partner competenti nel processo di innovazione del welfare che devono potersi spendere competenze di ricerca, di sviluppo e di innovazione di servizi, di collaborazione strategica perché sono chiamati dentro all'intero processo di perseguimento del fine dell'interesse generale della comunità. Per tutti, quindi per gli enti del terzo settore e per la pubblica amministrazione l'avrete forse già intravisto quando scorrevano un po' troppo velocemente le slide stiamo vedendo e assistiamo a un ampliamento dei confini del welfare dai soggetti tradizionali del sociale quelli, insomma, dei servizi sociali dei servizi sociosanitari dei servizi socioassistenziali a una comunità coinvolgibile nel perseguimento del bene comune tramite queste attività di interesse generale. Altro scarto richiesto da un coinvolgimento puntiforme e parcellizzato ha una partecipazione ad un processo continuativo e circolare quindi la chiamata in certi momenti per fare la programmazione non inserita dentro un processo continuativo che vede una chiamata a leggere delle esigenze ma poi vede anche una chiamata a condividere delle linee strategiche di gestione di queste esigenze che vede una chiamata a condividere un andamento territoriale rispetto alla risposta a queste esigenze ecco, è un intero processo di coinvolgimento reciproco e non sono i momenti dell'anno deputati ad assolvere a delle richieste più di carattere burocratico o in alcuni casi anche in emergenza. l'altro aspetto di scarto di paradigma è che non stiamo più parlando di uno scambio di prestazioni a fronte di risorse economiche ma stiamo parlando come fondamento di questa collaborazione della condivisione di obiettivi e anche questo è uno scarto che riguarda tutti gli attori in campo questo quindi è l'escursus che riteniamo utile che abbiamo ritenuto utile fare per collegare la cornice normativa a quello che poi dobbiamo saper leggere sul territorio e dobbiamo saper gestire sul territorio per fare in modo che questa cornice normativa sia effettivamente generata applicata e resa operativa all'interno delle nostre comunità territoriali.